Passi la palla e mi dici uomo, prima devi aspettare me, questo, faccio questo, mi giro, me la dai qua, perfetto, io vado, il secondo, se tu mi trasmetti la palla e mi dici solo, vuol dire che non ho uomo dietro, faccio dai, solo, faccio questo, la porta avanti e calcio, ok, la differenza è, se sono sinistro, sinistro e vado, destro, devo sempre guardare la palla, ok? Proviamo? Sei te che fai il movimento, fai il contromovimento, tieni bello, fai il contromovimento, agg, agg.